Scordatevi le baccheche stracolme di annunci di casi in affitto da privati e magari pure in nero. Oggi gli annunci per le stanze destinate agli universitari sono quasi esclusivamente online, su pagine Facebook dedicate o attraverso i siti delle agenzie immobiliari. E a sentire gli studenti la ricerca della casa non è un grosso problema, si trova facilmente a prezzi accessibili. È un appartamento ben messo e secondo me in relazione a quello che offre pago il giusto, 350 euro, 370 euro al mese affitto più utenze incluse. Io vengo da Pordenone e pago 310 euro al mese. Quello che sente in giro è gli appartamenti, si prendono in regola o in nero come un tempo? No, no, sono sempre in regola tramite contratto anche perché l'università ovviamente necessita dei contratti di locazione per poter assistere gli studenti con delle borse di studio. Mentre il ministro dell'università Anna Maria Bernini dopo la protesta contro il caro affitti scoppiata una settimana fa dal Politecnico di Milano e dilagata nelle principali città italiane, promette iniziative per calmirare il costo delle stanze per gli studenti fuori sede. In regione Friuli-Venezia-Giulia non si evidenziano criticità significative. A Trieste, che conta 19 mila studenti e molti fuori sede, per una stanza i prezzi vanno da 200 a 350 euro al mese circa per una singola, anche se non è così facile quantificarlo. Come spiega Filippo Avanzini, presidente della FIAP, che dice dipende anche dalla tipologia d'abitazione. A seconda delle caratteristiche dell'appartamento, per quello non si può dire a camera. Un appartamento può avere due camere, ma può anche avere un soggiorno, una cucina, doppi servizi, per cui io vado a loccare l'insieme dell'immobile e quindi viene determinato un canone preciso di locazione.